secondo big match di questa terza giornata del torneo super five terza edizione che vede affrontarsi la zona ospedaliera in competino arancio fluorescente contro il vff con maglietta bianca e pantaloncino nero adesso il saluto al pubblico a corso fin qui per seguire la propria squadra nel cuore e poi fair play saluto all'arbitro tonino momento del tocco per decidere a chi spetterà il calcio inizio a chi spetterà il campo ok quindi il calcio inizio affidato alla vff che attaccherà da sinistra a destra dei vostri delle schermi viceversa per la zona ospedaliera tutto pronto ci vediamo per inizio il primo tempo tra zona ospedaliera e vff partita a terzo minuto già ferma su 0 a 0 ma vff andò da vicino al gol con una punizione che all'ambito l'esterno del palo alla destra il moio e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Inizio di nuovo tempo tra VFF e zona ospedaliera, proprio circa 6 secondi fa, arrivato il gol del 3-1, targato Rosiello su assist di Malfitano. Davvero frasi già bene la coppia d'attacca di VFF. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.